In Abba Comanzia Rosanna S. Amore, cosa ne pensi della riunione del cerchio esseno? L'entità Isabella, in Abba Comanzia, mi ha invitata a tornare per una riunione di trans. Cosa ne pensi? Risposta Figlia cara, è bello pensarti in questo cerchio medianico con il tuo caro amico. Lui è una persona molto cara a noi. Sono sempre passaggi obbligati che nel viverli ti danno comunque dei nuovi insegnamenti. Sicuramente nel prossimo incontro rimarrai molto sorpresa.